Grazie per questa opportunità di poter salutare gli amici di Casandrino che sono lì a Trendon e che come tanti altri nostri fratelli, amici italiani, vivono ormai da tempo e lavorano lì in queste zone un po' distanti da noi. Questo saluto mi permette di ricordare davvero tanti perché nella mia terra più volte ho avuto modo non solo di salutare ma di venire anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, in Brasile, in Uruguay, in Argentina a fare visita ai nostri compaesani, ai nostri amici che vivono lì. Colgo allora questa occasione per salutare tutti, per augurare un fecondo cammino di bene, sempre sotto lo sguardo di Maria, di Maria che è assunta in cielo e la protettrice di Casandrino ed è la madre che accompagna i suoi figli dovunque sono nel mondo. Il Signore vi benedica e vi faccia crescere sempre tutti nel bene, nella sua volontà.